Si sono formate due trombe d'aria, guardate, un'altra se ne sta formando qui, di fronte Ossialido, quasi vicino di fronte al porto È incredibile Un'altra si sta formando lì, sul lato destro Guardate 3 novembre 2017, eccola Ivan Tomassini da Ostia Ecco l'altra, ecco l'altra si sta formando in questo istante Vedete la punta in basso dal mare Si sta ingrandendo Speriamo che non arriverà a terra Speriamo che non arriverà Grazie Grazie Grazie